bene buongiorno amici ben ritrovati con gli appuntamenti quotidiani dedicati alle analisi operative oggi andremo ad analizzare il gold per una possibile continuazione del movimento rialzista in ottica weekly bene però prima di poter andare a guardare quello che sta succedendo proprio sul settimanale andiamo a vedere anche il perché che cosa succede quali sono le indicazioni anche dal punto di vista dei fondamentali che possono spingere quindi l'oro al di sopra addirittura fino a poter raggiungere anche l'ultimo massimo l'ultimo massimo che è stato raggiunto proprio nella prima settimana del mese di settembre allora praticamente il sentiment del mercato che piano piano si affivolisce a causa dell'aumento del del risk off versione al rischio quindi ciò potrebbe sostenere le i beni rifugio tradizionali come appunto il metallo prezioso in questo momento e poi molto interessante guardare anche i rendimenti obbligazionali americani che sono in calo quindi ovvero praticamente il praticamente la caduta dei rendimenti di titoli del tesoro americano che appunto a potrebbe ulteriormente giovare il metallo giallo ad una fase rialzista in aggiunta a ciò una domanda moderata del dollaro americano è rimasta quindi favorevole e che potrebbe però spingere quindi rimasta favorevole ma praticamente molto interessante guardare quindi questa fase di di deprezzamento del dei rendimenti dei titoli di stato oltre a questo poi nel frattempo quindi abbiamo anche la situazione che con un rischio globale che è collegato praticamente al al regno unito al caos che sta generando appunto in merito alle ultime indicazioni sulla brexit dove praticamente al momento non si riesce quindi ad risolvere la situazione soprattutto dopo che ieri sera c'è stato un altro voto respinto da parte di boris johnson in un ulteriore in ulteriore quindi in un ulteriore incontro fiume tra nella camera alla camera dei comuni situazione che quindi potrebbe quindi portare un ulteriore fase di avversione al rischio tra i mercati e quindi una maggiore propensione verso da parte gli investitori verso i beni più bene rifugio quindi in questo caso rientra anche l'oro bene però andiamo a vedere anche graficamente quello che sta succedendo in un'ottica in ottica settimanale prima di tutto vediamo che il otto per ben negli ultimi mesi per ben otto volte quindi uno due quindi tre quattro cinque sei sette questa è l'ottava settimana dove i prezzi del metallo prezioso si sono appoggiati su questo pavimento pavimento quindi una zona forte quindi una zona di demanda tra mille quattrocentottantasette mille quattrocentottanta vedete più volte il prezzo ha tentato di rompere però qua sotto ci sono solo shadow quindi in realtà abbiamo solo delle false movimentazioni al ribasso quindi il non ci sono stato appunto degli accenni movimenti ribassisti ma senza quindi mai avere successo situazione quindi che potrebbe a questo punto siccome siamo su un'area molto interessante dove potrebbero partire delle movimentazioni long anche dalla situazione fondamentale che abbiamo analizzato prima il prezzo potrebbe raggiungere anche l'ultimo massimo l'ultimo massimo proprio importante che è stato raggiunto proprio nel mese di settembre 1557 832 che poi tra l'altro sarebbe vedete il massimo del il massimo annuale quindi potrebbe andare a spostare l'asticella del della high annuale oltre il 1560 bene per oggi è tutto grazie mille per l'attenzione ci aggiorniamo al prossimo appuntamento